Sono oltre 11.000 gli euro raccolti per la festa di sole alla Cava di Roselle, due serate organizzate in concomitanza del compleanno di Maria Sole Marras, denari che andranno a finanziare un progetto a lei dedicato di ricerca sulla neuro-oncologia pediatrica del Meyer di Firenze. Maria Sole era una bimba speciale, che lei continua a ispirare, a smuovere non solo amici, persone anche che l'hanno conosciuta attraverso i nostri racconti in questi tre anni e mezzo, attraverso gli interventi della zia Caterina. Mi sorprende veramente la grande attenzione, il grande calore. Quanto sono importanti iniziative come quella di questa sera? Sono molto importanti, per un duplice motivo. Riescono a portare delle risorse, delle risorse aggiuntive che ci consentono di fare meglio e prima determinate progettualità. Ci danno grande entusiasmo.